Sono estremamente gravi le accuse rivolte ad un infermiere del presidio ospedaliero dell'Ellis Ciaccio di Catanzaro, che prestava il suo servizio presso il reparto oncologico. L'uomo avrebbe abusato delle condizioni fisiche e psichiche dei pazienti affetti da gravi malattie oncologiche, costringendoli a subire atti sessuali contro la loro volontà nello sforgimento del proprio servizio. Per questo la Guardia di Finanza di Catanzaro lo ha arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Nel corso delle indagini sono state sentite diverse testimonianze che hanno confermato la sussistenza dei comportamenti dell'indagato e sono stati accertati numerosi episodi che si sarebbero consumati nell'arco di circa un anno dentro le mura del presidio ospedaliero, permettendo così di delineare un quadro pressoché completo di questa terribile vicenda.